Devo essere molto sincero, sono contentissimo di questo evento perché l'ho ripreso dopo dieci anni. Però devo essere anche sincero che anche il sindaco di Avellino teniva molto a questo evento. Infatti qualche anno fa, due anni fa, in piena pandemia mi chiamò dicendo che dopo la pandemia, quando si è bevita la pandemia, avrebbe rimesso in sicurezza l'impianto e volevo che questa tradizione ritornasse. Mi ha convinto, non è stato semplice dopo dieci anni di cominciare, infatti è iniziato in sordine l'evento. L'abbiamo ripreso all'ultimo, abbiamo avuto comunque 35 squadre. Arrivare in numeri di dieci anni fa non è semplice, però la ripartenza è ottima. La cosa che a me fa più piacere è il senso della comunità, ciò che io ho sempre predicato e ho portato avanti nella mia vita, la comunità, l'amicizia, socializzare soprattutto. Il quartiere si integra dalla città ed è la cosa che a me fa più piacere. Poi è un evento che ho inventato io e quindi vedere 500-600 persone a serata è una grandissima soddisfazione. Mi piacerebbe vedere questo tipo di attività anche nelle altre periferie. Credo che il percorso non sia difficile, però bisogna lavorare. Bisogna lavorare tantissimo perché oggi lavorare sul territorio non è semplice. Oggi, come io l'ho vista quest'anno, anche il calcio, i ragazzi con questi social, secondo me hanno un po' tralasciato il senso dello sport. Diciamo che emoziona quando guardiamo i bambini o i ragazzi giocare a calcio in mezzo alla strada e non stare con un cellulare in mano. Allora io corro sempre, vado sempre in Piazza Libertà, vedo quei ragazzini che giocano vicino al Palazzo della Provincia. Questo è un segnale positivo ma è anche negativo, vuol dire che siamo carenti di strutture. Quello che abbiamo non lo sappiamo valorizzare, però non è una sconfitta. Da queste piccole osservazioni occorre ripartire. Però io so che tu hai un grande sogno, cioè portare Roberto Baggio al torneo di Rione Mazzini. Ma facciamo un appello, non so, per i netti, qualcuno che lo conosce, portiamo Baggio a Rione Mazzini. I fasti della storia del nostro calcio è segnato dalla storia. Avellino deve rinascere sotto tutti i punti di vista e credo che un campione come Baggio, che ha rappresentato l'Italia nel mondo, forse è il calciatore più amato d'Italia nel mondo, credo che non è la ciliegina sulla torta. Sarebbe per la città, per i ragazzi, uno spiraglio e un incentivo a fare bene e soprattutto a ritrovare il barulio dello sport.